Continuità nelle prestazioni, quella che chiede Federico Guidi al suo teramo all'inizio di un trittico di partite ravvicinate. Si parte domani pomeriggio con la trasferta di Viterbo, poi l'infrasettimanale con la Pistoiese e infine un'altra trasferta al Barbetti di Gubbio. È chiaro che non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo commesso a Imola dove abbiamo avuto un atteggiamento passivo al di là del gol preso al 94esimo. Poi nelle altre tre partite ben o male con Pesaro e Lucchese l'atteggiamento non è mancato come non è mancato a Siena dove la prestazione meritava sicuramente di portare via da Siena perlomeno un punto. Dobbiamo continuare così perché ormai mancano 14 partite e come vi dissi l'altra settimana sono 14 finali per chi vuole salvarsi. Aggregato al gruppo Biancorosso anche l'ultimo arrivato Simone Jacoponi rinforzo che chiude un mercato molto ampio del diavolo e sarà una pedina fondamentale per la retroguardia del teramo. Ha svolto solamente la rifinitura stamani e quindi è una cosa che valuteremo fino all'ultimo secondo perché dobbiamo anche tenere in considerazione il fatto che giocheremo sei partite in due settimane. E' chiaro che dobbiamo anche scentellinare un po' le forze tenendo anche in considerazione il fatto che Simone non gioca praticamente da marzo scorso e quindi valuteremo. E' chiaro che è una partita importante. Simone è un valore assoluto, questo è indiscutibile e quindi ci prendiamo tutto il tempo per decidere il da farsi. Per quanto riguarda la formazione si va verso la conferma del 4-3 a centro campo. Giochere a Rossetti, lo ha detto anche il tecnico Biancorosso in conferenza stampa con Arrigoni e Fiorani. Davanti il tridente con Bernardotto o D'Andrea al centro e poi i due esterni d'attacco. Ma domani è una partita difficilissima. La Viterbese ha chiuso il girone d'andata in fondo alla classifica ma è perché di quell'annata è quando magari le cose ti vanno tutte male e magari un gruppo non riesce a esprimere il massimo del proprio valore. Quella era una squadra che era costruita per fare tranquillamente i play-off e a gennaio ha fatto un mercato anche addetto ai tutti gli addetti ai lavori estremamente importanti. Perché hanno inserito giocatori estremamente esperti come Fumagalli, Semenzato, Mungo, Bianchimano davanti, Ricci. Quindi hanno messo tantissima esperienza, giocatori di spessore. Sarà una partita complicata peraltro contro la formazione che ha colto nel mercato di gennaio Domenico Mungo, il grande ex della gara del Rocchi. Guidi non ci pensa, pensa soprattutto a riportare a casa un risultato positivo. Mimmo non l'ho più sentito e lo rivedremo domani da avversario. E quindi poi ci pensiamo al novantesimo magari a salutarci perché domani è una partita che in chiave salvezza, una partita che conta tanto.